r101 eccoci amici di r101 sono sempre qua villanobela sanremo come oggi lazza ciao come stai bene 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 stanco ma bene stanco sto dormendo complessivamente avrò dormito 6 7 ore beh però immagino l'adrenalina insomma hai fatto hai deciso di debuttare a sanremo io voglio chiederti come sei arrivato a decidere di partecipare perché comunque tu sei il cantante con il disco più strimmato nel 2022 quindi diciamo che più venduto più venduto più venduto come ho deciso niente mi è stato proposto mi piacciono tanto le sfide ho valutato insieme al mio team che poteva essere una cosa giusta venire a farci riconoscere pure e sei soddisfatto di questa scelta non mi piace il numero 4 non ti piace non tanto ecco quindi vuoi fare un appello a chi ti vota di votarti ragazzi non ci piacciono numeri diversi da uno quindi votate mi raccomando poi voglio parlare della tua canzone cenere un disco molto intenso che all'apparenza può sembrare appunto cenere voglio sparire come cenere ma in realtà parla di una rinascita quindi un messaggio di forza sì diciamo che parla appunto di una storia d'amore complicata no che però appunto tramite questa metafora della cenere porta verso il fine pezzo un a una speranza di miglioramento ma quindi questa storia d'amore è ispirata a una tua storia personale o ma sì e no ci sono dei punti che sì ci sono dei punti che no quindi alla fine cioè è un lieto fine o c'è un barlume di speranza direi sì di sì quindi è un è una canzone piena di speranza e poi vabbè sappiamo del tuo duetto con emma insomma insolito come duetto come mai hai scelto proprio lei in primis perché le voglio bene siete amici parecchio poi realtà duetto siamo in tre a vero il 3 il 3 esatto mentre c'è anche il primo violino della scala che una ragazza bellissima fortissima e poi stilosa si veste troppo bene si mette tutti i brand che piacciono a me no 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 veramente brava cavolate a parte invece niente dicevo è ma è come ma c'è tipo il mio alter ego femminile siete trovati di brutto è una cosa insolita tua che appunto stavo leggendo che tu oltre aver studiato al conservatorio pianoforte da piccolo dimmi severo eri appassionato di musica classica e jazz poi a un certo punto hai sentito my name is the eminem e la tua la tua vita la tua strada musicale è cambiata non è andata proprio così quindi google è sempre che vuole è un malinformato ti dico allora sono ancora oggi un appassionato di musica classica l'ascolto proprio a scopo terapeutico nel senso che quando sono stanco quando sono nervoso comunque mi aiuta si rilassa si abbastanza vabbè dipende poi cosa ascolto ci sono robe che mi rilassano ci sono robe un po più energiche certo e in realtà ho visto il video di my name is the eminem ma non era neanche il video di my name is era il video di deria slim shady a ok ma ero piccolino e quella roba comunque mi ha colpito si ha segnato si poi ho iniziato a reppare più avanti e avevo sei anni ti ricordi ancora ritornello non lo so cantare inglese male male è quattro vedi quattro beh ma c'è sempre tempo per recuperare anche perché sei giovanissimo e stai letteralmente spaccando prossimi progetti allora prossimi progetti finito finita questa settimana di sanremo spero di riuscire a fare un 3 4 giorni di vacanza che poi va di ritiro per le prove del tour ok sono in tour nei palazzetti da aprile sembra dal 17 dal 19 aprile partiamo da roma facciamo tripla milano oddio napoli ok bologna torino e poi abbiamo una data speciale il 25 aprile l'arena di verona e abbiamo aperto una data enorme all'ippodromo l'otto di settembre i biglietti sono su vivo concerti disponibile c'è solo l'arena e l'ippodromo tutto il resto quindi amici è tutto sold out tranne questi due noi verremo a trovarti forza mi raccomando tienmi da parte due biglietti ti devo dare due accrediti ecco due accrediti ultimissima cosa ti lascio andare ho visto che sei super attivo su twitter ma sono un po' offesa allora tu hai scritto di letta le otta non mi segue ma tu sai che anch'io sono una twitterina come te mi chiamano la bastarda col tablet mi sento un po' offesa io dicevo di letta le otta non mi segue su instagram ah no io parlo di twitter adesso ti seguirò su twitter mi raccomando però devi fare altrettanto va bene assolutamente grazie mille a lazza e in bocca al lupo ciao a tutti